Pensa per i piedi di Battista, Carrango e Angis Tatei, Marano e Tavista Pensa per i piccoli con il Ressinger è l'unico che cerca di andare via in seguita per il capitale del team che dicevano, la scommetta di OM e siamo con l'atleta del team Sionia Ressi, in prima risconda abbiamo ancora la teta che dicevano e andiamo in testa di quarta con l'ordante e il team Sionia Ressi.